Nei giorni scorsi si è tenuta la prima seduta di Consiglio Comunale a Santa Venerina, che ha visto l'elezione di Fabio Sorbello, presidente del Consiglio, eletto all'unanimità dai 12 consiglieri che compongono il Civico Consesso. Sua vice, Sandra Patanè. Sorbello, nel suo discorso, ha assicurato che avrà un atteggiamento imparziale e ha indicato che le priorità del Civico Consesso saranno la veloce approvazione dello Statuto Comunale e il nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Durante la seduta hanno prestato giuramento sia il primo cittadino, Salvatore Greco, sia i consiglieri eletti. Il sindaco greco ha inoltre così distribuito le deleghe ai propri assessori. Alfio Di Paola, vice sindaco, detiene le deleghe alle politiche turistiche e sociali, Giuseppe Fresta, le deleghe ai lavori pubblici ed ecologia, Sebastiano Garozzo, manutenzioni, pubblica illuminazione, acquedotto ed autoparco ed infine Angela Cavallaro, verde pubblico, cimitero, politiche agricole e personale. Il neopresidente del Consiglio, Fabio Sorbello, commenta così ai nostri microfoni il suo nuovo impegno per Santa Venerina. Il primo Consiglio Comunale, dopo la mia elezione, dopo i dovuti passaggi di rito, ho tenuto a precisare che saranno cinque anni impegnativi e pieni di lavoro. A partire dalla necessaria approvazione, il più veloce possibile, del nuovo Statuto Comunale e di conseguenza anche del nuovo regolamento sul Consiglio Comunale. Ce lo impone la Regione, ma ce lo impone anche la necessità di dare nuovo slancio ai lavori consigliari, approvando questi importantissimi strumenti di regolazione che potranno sicuramente snellire e velocizzare il processo decisionale all'interno del Consiglio. Lei ha dichiarato di essere imparziale nella sua Presidenza. Sì, ho tenuto a precisarlo come è giusto che fosse. Da questo momento in poi svestirò i panni di consigliere con un ruolo politico per vestire quelli dell'incarico istituzionale che mi è stato accordato dall'intero Consiglio Comunale e proprio quel passaggio, quella votazione all'unanimità, sia mia che della vicepresidente, la consigliera Sandra Patanè, credo che sia stato un messaggio di fondamentale importanza nell'avvio di questi lavori consigliari dopo una campagna elettorale che come sappiamo è stata molto pesante e ha visto il Paese dividersi addirittura su cinque proposte di candidato a sindaco.